Utili per la distribuzione di materiali digitali. Proseguiremo poi con una presentazione dei libri nella nuvola e vedremo come i nuovi ebook sono utilizzabili anche come contenitori di materiali condivisi dai docenti. Proseguiremo con l'ultimo punto in cui vedremo come usare il cloud per la valutazione e lo vedremo attraverso l'esempio dei servizi offerti dal sistema ZTE. Iniziamo subito con la presentazione del concetto di cloud computing e i suoi principali servizi offerti. Per introdurci nel problema sono proposte due domande iniziali. Perché usiamo i computer e come siamo abituati ad usarli? Beh, alla prima domanda ciascuno potrà rispondere in base alla propria esperienza. Usiamo i computer perché ci permettono di realizzare più velocemente un insieme di operazioni. Usiamo i computer perché ci aiutano nel lavoro, perché ci permettono di comunicare, ci divertono. E quindi a questa domanda non è assolutamente difficile rispondere. La seconda domanda invece, come siamo abituati ad usarli? Non vuole portare la nostra attenzione al modo con il quale siamo abituati ad usare i computer, ma più che altro ci vuole portare su un insieme di tre elementi fondamentali che forse l'abitudine ci ha indotto oramai a considerare come fondamentali, come basilari per l'utilizzo appunto dei calcolatori elettronici e quindi non ci soffermiamo più molto a riflettere sul fatto che ultimamente siamo abituati a considerare l'hardware, il software e l'utente che utilizza questi strumenti, un tutt'uno per raggiungere un obiettivo. E a prima vista sembrerebbe che questi tre elementi siano davvero inseparabili. Un calcolatore elettronico privo di software serve a poco, il software senza l'opportuno hardware non ha la possibilità di risolvere molti problemi e naturalmente sia hardware che software in assenza di un operatore che coordini le operazioni per ottenere un determinato obiettivo, chiaramente da soli non prendono certo le iniziative necessarie per arrivare appunto alla soluzione di un determinato problema. È però davvero così, cioè siamo davvero costretti a considerare hardware, software e utente realmente inseparabili? Per la verità qui si inserisce il concetto di cloud computing. Con il termine inglese appunto cloud computing, che tradotto in italiano suona diciamo molto più familiare, nuvola informatica, si vuole indicare un insieme di tecnologie che permettono sotto forma tipica di un servizio offerto da un provider ad un cliente di memorizzare, archiviare e o elaborare dati utilizzando risorse, hardware e software distribuite e virtualizzate in rete. Che cosa significa? Significa che l'inseparabilità del software dall'hardware nel concetto appunto di cloud computing non è più una situazione da considerare, diciamo davvero non risolubile diversamente. Si può effettivamente separare il software dall'hardware. In che modo? Beh, l'hardware ci servirà solamente per arrivare ai data service che forniscono servizi hardware e all'hardware e all'interno di questi data server avremo modo di ottenere dei servizi software e questi servizi software non devono essere necessariamente collocati fisicamente sul nostro computer, ma in realtà piuttosto che essere diffusi sui singoli computer si trovano prevalentemente residenti sui server web, cioè sono lontani da noi, ma noi possiamo comunque raggiungerli. Per fare un esempio che ricordo un po' il passato, ecco io da bambino vedevo alcune persone che non avendo un orologio ben sincronizzato che non forniva un'ora esatta, prendevano il telefono e chiamavano un numero che forniva un servizio, servizio appunto di ora esatta. Cosa significa questo? che non è indispensabile avere un orologio per conoscere l'ora esatta, l'importante è poter raggiungere un servizio che con precisione e con immediatezza ci fornisca l'informazione richiesta. Questo è un po' il concetto appunto del cloud computing. Non è importante avere un programma fisicamente residente sul nostro calcolatore elettronico per poterlo utilizzare. L'importante è riuscire a raggiungere un sistema magari anche lontano, ma comunque accessibile con programmi, con connettività, con strumenti magari anche semplici potrebbe essere un browser, ma l'importante è poter raggiungere questo software su un sistema remoto per poterlo utilizzare come se fisicamente fosse installato sul nostro calcolatore. Un secondo esempio, i dati che fino ad oggi venivano salvati sui singoli PC, nell'ambito appunto del cloud computing, saranno decentrati su vari server, quindi giganteschi archivi digitali a cui l'utente può accedere grazie a un comune browser o grazie ad applicazioni particolari. Quindi, in concreto, piuttosto che archiviare i nostri file e i nostri documenti sul computer di casa, di scuola e trasportarli su chiavette USB, sarà sufficiente depositarli in Internet, quindi nella nuvola, e così potremo distribuirli ad altri o consultarli, eventualmente anche bondificarli direttamente con diversi dispositivi senza necessariamente avere apposito software installato sul nostro calcolatore per rapportare ai file le modifiche desiderate. L'importante è raggiungere questi file su sistemi remoti e una volta raggiunti, che siano distanti da noi, poco importa. L'importante è poterli comunque utilizzare, manipolare, gestire con opportuni programmi. I principali servizi offerti dai sistemi cloud sono fondamentalmente riassumibili in tre grosse categorie, quindi servizi software, servizi dati e servizi hardware. Con i servizi software intendiamo appunto la possibilità di utilizzare programmi installati su server remoti, cioè al di fuori del computer fisico della LAN locale, spesso accessibili attraverso server web. Per quanto riguarda invece i servizi dati, questi servizi vengono messi a disposizione via web, solamente i dati ai quali determinati utenti possono accedere tramite appunto qualsiasi applicazione, come se fossero residenti su un disco locale, quindi non è necessario averli fisicamente realmente sul nostro calcolatore. L'importante è riuscire ad accedervi e lavorare su questi dati. Ultima tipologia, servizio hardware. Con questo servizio l'utente invia dati ad un computer remoto e questo computer provvederà a elaborarli attraverso ulteriori calcolatori elettronici e rimettere a disposizione i risultati nel prodotto finito dell'elaborazione di questi dati all'utente iniziale. Questo è praticamente ciò che rappresenta la parte introduttiva dei servizi cloud. A questo punto chiederei se ci sono già alcune domande, in modo tale da poter iniziare a dare qualche risposta. Ora c'è stata una domanda che chiedeva se i servizi Google sono in questa ottica oppure no? Sì, sono considerati anche quelli considerabili servizi cloud. Diciamo che tutto ciò che in qualche modo non è residente sul nostro calcolatore elettronico, ma su macchine remote e comunque permette di gestire dati e elaborarli, questi dati fisicamente, queste elaborazioni non essendo fatte in locale, ma altrove si considerano elaborazioni fatte nella nuvola, svolte nella nuvola. Vedo anche una domanda, un esempio del terzo tipo, hardware. Ecco, supponiamo di avere necessità di effettuare delle elaborazioni pesanti su un insieme di dati. spesso si cerca di risolvere problemi di calcolo acquistando computer molto potenti. Nell'ottica del cloud non dobbiamo acquistare o comunque procurarci un computer molto potente, dobbiamo semplicemente cercare un servizio che inviando i dati a particolari appunto calcolatori, questi calcolatori provvederanno ad elaborare con tutta la loro potenza i dati che noi gli inviamo e ci restituiranno i risultati. Come hai letto, c'è Giuseppa che dice, ho sentito dire che se importi delle tabelle fatte fuori Google Drive, te le pasticcia se le importi. Non so se puoi aver capito il senso della domanda. Sì, probabilmente ci sono ancora dei problemi di perfetta compatibilità con determinati servizi cloud e i nostri programmi, i nostri calcolatori elettronici. Comunque, penso che nel tempo possano essere quantomeno ridotti se non risolti del tutto. Qualcuno chiedeva anche di SkyDrive. SkyDrive è un servizio che offre la possibilità appunto di memorizzare un insieme di dati, ma questi servizi appunto li esamineremo più in dettaglio iniziando da Box, poi parleremo di Dropbox e piano piano vedremo che tutto sommato poi tutta una serie di servizi hanno anche degli elementi in comune, quindi si assomigliano anche un po'.